L'ultima notizia pubblica sul problema ampliamento e messa in sicurezza della strada statale 93 nel tratto pugliese di circa 20 chilometri tra Canosa, Loconia e Lavello risale ad aprile 2023, quando dell'argomento si è parlato durante un consiglio comunale nel comune pugliese. Poi è calato nuovamente il totale silenzio, ma non sono certo calati gli incidenti, gravi e gravissimi. Gli ultimi due in ordine di tempo, entrambi mortali. Ieri pomeriggio ha perso la vita un 29enne di Andria sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto dopo aver perso il controllo. Una ventina di giorni fa fu invece un trentenne a perdere la vita con auto ribaltata dopo lo scontro con un trattore. Sui entrambi c'è la ricostruzione delle forze dell'ordine per comprendere le cause, ma di certo c'è che quella strada anche per il comune di Canosa va messa in sicurezza ed è per questo che già da lontano 2015, esattamente nove anni fa, ci si era attivati presso la regione su sollecitazioni di associazioni e comune con la possibilità di accedere a ad un fondo per consentire la progettazione dell'intervento di ampliamento e messi in sicurezza. Una strada, è bene ricordarlo, di competenza ANAS e da sole due corsie che transita attraverso l'Oconi e che connette la Basilicata alla Puglia, giungendo praticamente al mare. Di mezzo una marea di aziende e terreni coltivati con accessi e poderi. Nel 2019, continuando con la cronistoria delle azioni burocratiche, arrivò il parere favorevole da parte della regione al prestito da 500 mila euro da destinare alla progettazione, sino al grado di esecutiva entro 36 mesi. Convenzione firmata con ANAS, ma tempi che si sono nuovamente dilatati e diventati, anni, sino al 2023. Nel corso del tempo non sono mancate le accuse incrociate di mobilismo alle varie amministrazioni che si sono susseguite e le prese di posizione di maggioranza ed opposizioni. Ma di fatto ad ora non c'è ancora nessun progetto finito di messa in sicurezza. Al lavoro c'è l'ANAS e in quel famoso Consiglio Comunale, in cui il provvedimento fu approvato all'unanimità, fu spiegato come vi fosse una conferenza di servizi convocata per definire con i tanti enti coinvolti la fattibilità della progettazione, ma soprattutto la localizzazione dell'intervento, considerato anche l'impatto su terreni d'aziende. Di quella conferenza di servizi comunque al momento non c'è più traccia pubblica, così come eventuali interventi sulla strada.